La moda del momento, il sogno di molti, la scoperta dei salutisti. Di cosa sto parlando? Ma della friggitrice ad aria! Cosa c'è di vero tra queste aspettative? Vale davvero la pena fare questo acquisto? Oltre ai classici fritti, quali piatti ci si possono preparare? Scopriamolo insieme! Io sono Dedè e se non ci conosciamo ti do il benvenuto sul mio canale. Qui parlo di ordine, pulizia, ricette, fai da te, piante, di come rendere l'ambiente casa più accogliente, sano ed ecosostenibile. Rispondiamo prima al grande dilemma e poi vediamo tutto quello che ci si può preparare. È davvero più sana di una friggitrice ad olio? Sì, perché in realtà non frigge, cioè l'alimento non è immerso nell'olio, la quantità di olio necessaria è molto poca. L'alimento viene cotto dal calore del flusso di aria, come se fosse in un forno molto più piccolo e altamente ventilato. Ovviamente la frittura d'olio è imbattibile, in quanto l'olio penetra all'interno dell'alimento in esso immerso, modificandone il sapore. Tuttavia, come risultato, la friggitrice ad aria ci si avvicina parecchio, perché l'aria calda nebulizza il poco olio presente, distribuendolo in maniera uniforme sul cibo, innescando la reazione di Maillard, che è quella reazione che conferisce il colore dorato e la croccantezza esterna. La cottura in friggitrice ad aria renderà pertanto un piatto molto più gustoso rispetto alla cottura in forno, con una quantità di olio uguale o inferiore. Il cibo viene posto in un cestello estraibile con una griglia sul fondo, che consente il passaggio all'aria. Ci può essere solo una resistenza sopra il cestello, in questo caso si ottengono risultati migliori girando il cibo a metà cottura, oppure ci può essere una resistenza sopra e una sotto al cestello. Nella parte superiore la ventola permette di avere una distribuzione del calore uniforme. Essendo di solito abbastanza compatta, l'ideale è tenerla sul top della cucina, in modo tale che sia anche pratico l'utilizzo frequente. Altro vantaggio, essendo il cestello più piccolo di un forno, si scalda molto prima e anche l'alimento si cuocerà in un tempo minore. Per tutte le ragioni appena viste, direi che l'acquisto ne vale assolutamente la pena e se ancora non siete convinti vi mostro quanti alimenti ci si possono cucinare, non solo i classici fritti. Burger di pesce con contorno di verdure. Metto il pesce direttamente sul gelato nel cestello insieme alle zucchine tagliate a rondelle. aggiungo olio e sale. 180 gradi per 15 minuti e una cena gustosa e salutare è pronta! E perché non prepararvi le castagne? Faccio il solito taglio sul guscio di ciascuna castagna e le inserisco nel cestello. 180 gradi per 15-20 minuti. Cotte perfettamente con interno morbidissimo e guscio facilmente rimovibile. Come non preparare invece le classiche patatine? Ma non quelle surgelate, già prefritte! Basta tagliare a bastoncino le patate, inserirle nel cestello, aggiungere un po' di olio e un pizzico di sale e cuocere a 180 gradi per 15 minuti ricordandosi di girarle a metà cottura. E le olive ascolane? Le inserisco direttamente surgelate nel cestello e aggiungo un paio di cucchiai di olio, sì stavolta un quantitativo maggiore rispetto alle altre preparazioni perché tutto ciò che è rivestito da pastella lo richiede, altrimenti l'aria calda tende a rompere la panatura e a farla staccare. Ma cosa sono due cucchiai rispetto al mezzo litro di olio che usavo prima per friggerle? E perché non cucinarci funghi? Freschi o surgelati vanno direttamente nel cestello a 180 gradi. Dopo 5 minuti una volta scongelati aggiungo olio, sale e due spicchi di aglio e cuocio per altri 10 minuti. Sentirete che profumo! Buonissimi! E la zucca? Perché non gustarla come patatine? Dopo una faticaccia per tagliarla, per ovviare basta acquistare quella pretagliata e sbucciata, la inserisco nel cestello con un cucchiaino di olio e un pizzico di sale. 200 gradi per 20 minuti. Giro a metà cottura e alla fine il risultato è strepitoso. E perché non delle polpette di merluzzo? Dalla confezione alla friggitrice, pronte in 5 minuti a 180 gradi. Come dimenticare i totani! Non li facevo mai per la facilità per non impuzzare la cucina e ora invece posso gustarmeli senza rimorsi. Direttamente surgelati li metto nel cestello preriscaldato e li faccio cuocere a 180 gradi per 16 minuti con un cucchiaino di olio. Buonissimi! Va bene, ora basta! Fammi sapere se la proverai, ti lascio il link amazon in descrizione e non dimenticarti di scrivermi nei commenti in quale gustosa ricetta ti sei cimentato. Ricordati solo una volta usata di lavare immediatamente il cestello in modo tale che non si incrosti e di asciugarlo subito così che nel tempo non si rovini. Se questo video ti è piaciuto supportami con un like e se sei nuovo da queste parti puoi iscriverti adesso al canale. Io ti do appuntamento al prossimo martedì alle 18. Ciao e a presto!